Oggi, martedì 4 giugno, andranno online i primi spot Bitcoin e TF sulle borse australiane. Speriamo soltanto che non siano delle ciofeche come quelle di Hong Kong. Ciao a tutti ragazzi, vi do il benvenuto in questo nuovissimo video. Innanzitutto vi auguro un buon martedì mattino a tutti. In questo video voglio andare a vedere le ultime news relative al mercato delle criptovalute perché ne abbiamo di molto e molto interessanti. Infatti ragazzi, questa settimana vi ricordo che ci sarà la decisione sul tasso di interesse derivante dalla Banca Centrale Europea. Inoltre oggi abbiamo ufficialmente il lancio dei primi spot Bitcoin e TF sulle borse australiane e andremo appunto a vedere un po' in relazione anche con quelle di Hong Kong come si potrebbero comportare. Abbiamo diverse dichiarazioni per quanto riguarda le regolamentazioni mica sul suolo europeo e soprattutto derivano dalle prime misure attuate anche da Binance. Infatti voglio andare a vederle insieme a voi cosa cambierà in materia di stablecoin sul suolo europeo. Prima però di andare a vedere tutto nel dettaglio di che da come sempre di supportare il canale lasciando semplicemente un like e iscrivendoci al canale stesso. Hai fatto? Perfetto, basta chiacchiere e passiamo con la visuale a PC. Allora ragazzi, molto rapidamente passiamo con la visuale su investing.com perché ieri ci sono stati diversi dati per quanto riguarda il settore manufatturiero dell'economia statunitense che ancora a livello di influenza sui mercati finanziari globali è diciamo l'economia numero uno da tenere sott'occhio. Ma attenzione a questo giovedì, domani l'altro perché ci sarà, oltre al deposit facility rate, ci sarà anche l'ACB interest rate decision, ovvero la decisione sul tasso di interesse derivante dalla Banca Centrale Europea che ricordo attualmente i dati attuali sono al 4.5% e per la prima volta dopo diverse sessioni, svariate sessioni, potremo vedere un tasso di 25 punti base o meglio quello è quello che si aspetta gli analisti, ok? Ovviamente dopo mezz'ora avremo anche il commento della presidentessa Lagarda, ovvero la presidentessa della Banca Centrale Europea quindi ragazzi attenzione perché tutti i riflettori sono puntati verso questo evento. Passiamo con una breaking news molto importante, infatti a partire dal verdetto di colpevole di Donald Trump per quanto riguarda le varie cause che è appunto, se non sbaglio, ha beccato più di 40 capi di imputazione che lo hanno visto come colpevole appunto dal giudice per quanto riguarda le varie cause che si sono svolte nei tribunali di New York la campagna elettorale ha ricevuto dal momento del verdetto di colpevole circa 200 milioni di dollari ovviamente per sovvenzionare le varie campagne. Ragazzi è una cosa leggendaria, a parte che è il primo presidente degli Stati Uniti che è stato conandando colpevole da una corte federale però comunque sia ragazzi vediamo come alla popolazione americana non gliene importi proprio una mazza dato che vediamo come ha raccolto a partire da quel giorno, in pochissimi giorni, in realtà 200 milioni di dollari. Ragazzi ieri sul New York Stock Exchange ci sono state diverse stock che hanno avuto diversi glitch e infatti hanno dovuto stoppare, vista anche l'alta volatilità e per diversi problemi tecnici il trading di varie stock tra i quali possiamo vedere Berkshire Hathaway ovviamente le relative stock che sono droppate del 99,97% ovviamente stiamo parlando di un glitch ed è per questo che sono stati bloccati il trading appunto per quanto riguarda diverse stock. Come vi dicevo ragazzi attenzione perché oggi è il giorno fatidico al quale sulle borse australiane saranno lanciati i primi spot bitcoin etf e soprattutto speriamo non facciano schifo come Hong Kong bitcoin spot etf infatti qui abbiamo numeri alla mano e vediamo come a partire appunto dal 21 abbiamo praticamente dei volumi a zero, dell'inflow ma anche netflow pari a zero. Abbiamo soltanto avuto il 29 maggio un netflow di meno 12 bitcoin praticamente potrebbe essere stata una singola persona a fare questa movimentazione con una singola transazione. Per quanto riguarda il 23 maggio abbiamo meno 26 bitcoin comunque sia vediamo come attualmente il totale di bitcoin detenuti in tutti gli Hong Kong etf corrisponde a circa 3620. Praticamente come andremo a vedere dopo stiamo parlando di una singola sessione giornaliera di inflow o outflow per quanto riguarda le borse americane. C'era un grosso hype per quanto riguarda le borse di Hong Kong ragazzi potrebbe essere un game changer, potrebbe essere il primo punto d'approdo per il continente asiatico per andare ovviamente ad fare investire diversi investitori istituzionali e non su bitcoin attraverso appunto la borsa di Hong Kong. Evidentemente possiamo dire che sono state delle ciofeche. Speriamo che non sia la stessa sorte che vedremo appunto sugli strumenti lanciati sulle borse australiane. Comunque sì ragazzi già ve lo anticipo numeri e soprattutto interessi paragonabili alle borse statunitensi non le vedremo in nessuna borsa al mondo. È finito maggio, iniziato giugno e di conseguenza possiamo andare a tirare le somme per quanto riguarda gli inflow o gli outflow dal punto di vista istituzionale nel settore delle criptovalute di maggio. Infatti vediamo come maggio si è concluso come un mese positivo circa 2 miliardi di dollari di inflow in tutto il mese. Infatti se noi andiamo a prendere in considerazione il dato, il grafico riportato da CoinShares dove prende in considerazione i weekly crypto asset flow cioè vedere i flussi netti per quanto riguarda ogni settimana se sono stati positivi o negativi e anche a livello quantitativo vediamo come aprile è stato totalmente negativo venivamo ovviamente tra febbraio e marzo da dei mesi molto molto interessanti con degli weekly che hanno raggiunto addirittura quasi i 3 miliardi di dollari in una sola settimana. Comunque sia vediamo come aprile è stato negativo è stato negativo ovviamente anche per Bitcoin a livello di chart a livello di candlestick e maggio è stato di ripresa sia dal punto di vista istituzionale che ha visto come un inflow positivo sulle 4 settimane di maggio di 2 miliardi di dollari ma l'abbiamo visto ovviamente anche su le candele di Bitcoin che sono state in ripresa e hanno riassorbito buona parte del crollo che abbiamo assistito ad aprile. Ragazzi Vanguard rimane comunque sia sulla propria posizione di non andare ad includere e accettare per i propri utenti attraverso le proprie piattaforme i Bitcoin Spot ETF lanciati dai concorrenti né all'intenzione di andare ad lanciare un proprio Bitcoin o Ethereum Spot ETF. Diciamo che si tiene molto alla larga dal settore delle criptolute però comunque sia evidentemente non ne ha bisogno perché dati alla mano e questa è la pura e cruda verità vediamo come negli ultimi 5 mesi dell'anno cioè vuol dire a partire proprio dal primo dell'anno primo gennaio 2024 abbiamo visto un influsso negli strumenti di Vanguard di circa 102,8 miliardi di dollari secondo abbiamo soltanto BlackRock di cui ragazzi vi ricordo che la Sharebit Contrast che è il Bitcoin ETF lanciato sulle borse americane amministrato anche da BlackRock anche e soprattutto da BlackRock vediamo come abbia fatto salire a quota 65 miliardi di dollari a partire dall'inizio anno l'influo totale sugli ETF di BlackRock nonostante ciò Vanguard rimane ancora in testa nonostante appunto non abbia un proprio strumento e non adotti e non voglia adottare gli strumenti che vanno a replicare l'andamento di Bitcoin allora ragazzi riagganciamoci comunque ad una news dell'intro infatti andiamo a prendere in considerazione che dal 30 giugno tramite un comunicato che ha messo pubblico ieri Binance stesso dove mette in chiaro alcune cose sulle nuove regole introdotte appunto dal Mika per quanto riguarda le stablecoin sulla propria piattaforma sul proprio exchange ora comunque sia per farvela molto molto più semplice ve la leggo su criptovaluto.it perché tra l'altro è scritta anche molto molto bene vediamo come a partire dal 30 giugno del 2024 ovvero che è la data dell'entrata in vigore delle regole del Mika ovvero la regolamentazione europea per il mercato delle criptovalute anzi per il settore delle criptovalute su solo europeo tutte le stablecoin che non rispettano le varie linee guida per quanto riguarda le nuove regolamentazioni del Mika saranno limitate nelle prime fasi primordiali infatti vediamo come la funzionalità converti sarà disponibile soltanto in modalità vendita cioè vuol dire se voi detenete delle stablecoin non autorizzate potete comunque sia senza fretta andare ad venderle ma non potete acquistarle perché non saranno più disponibili per l'acquisto su Binance e tra l'altro Binance molto probabilmente farà da apri fila e tutti gli exchange regolamentati andranno a fare la stessa medesima cosa o meglio tutti gli exchange che vogliono essere regolamentati in Europa comunque sia il trading spot continuerà a essere attivo fino a nuova comunicazione per chi ha stablecoin sul wallet comunque sarà possibile continuare a detenere queste criptovalute a depositarle e a inviarle fuori dall'exchange diciamo che non sarà più possibile ad acquistarle ma sarà possibile venderle ora non hanno dichiarato in realtà quali sono le stablecoin che non rispettano il MICA probabilmente USDT visto anche le scorse dichiarazioni fatte anche da Palo Ardoino che non era molto interessato ad o meglio Tether non era molto interessato ad seguire le regole del MICA probabilmente USDT non sarà più disponibile nel lungo termine per essere tradato sulle piattaforme ufficiali sugli exchange centralizzati regolamentati in Europa attualmente però non abbiamo dichiarazioni né di Binance perché non ha detto effettivamente quali sono precisamente le stablecoin che non seguono in realtà non ha detto neanche le stablecoin che seguono appunto le regolamentazioni MICA però comunque sia ragazzi attendetevi che dal 30 giugno comunque sia non vi preoccupate perché vi aggiornerò su quali effettivamente sono quelle che continueranno ad esistere su gli scambi regolamentati in Europa e qui invece quelle che purtroppo non potremo più utilizzare per il trading ragazzi voglio molto rapidamente mostrarvi questo grafico su Dune ok cosa prende in considerazione prende in considerazione i nuovi token praticamente che sono stati emesi che sono stati creati in base alla blockchain ok come possiamo vedere quali sono le blockchain che sono in trend evidentemente quelle che sono utilizzate di più per andare a mintare nuovi exchange ok o meglio questa è una delle metiche più importanti che devono essere prese in considerazione vediamo come a partire proprio da marzo la blockchain di base ha superato e ha stracciato tutte le altre concorrenti vediamo come a partire da marzo sono state create circa 82.500 nuovi token sulla blockchain di base abbiamo avuto il picco massimo a 240.000 su base ad aprile ma anche maggio in realtà non se l'è cavata male ovvero 177.000 criptovalute create su base vi anticipo già che stiamo parlando di secondo me il 99,9% di token che sono stati creati per scammare la gente o la maggior parte appunto sono meme coin però comunque sia questa è una metrica molto interessante per vedere dove tendenzialmente potrebbe andare l'interesse degli investitori soprattutto retail e vediamo come in hype adesso abbiamo appunto base in realtà partiamo molto bene anche per quanto riguarda inizio mese infatti vediamo come a partire dal primo giugno 2024 abbiamo avuto una nuova creazione di circa 15.820 nuove criptovalute create appositamente su base ragazzi vi lascio qui sotto in descrizione la promo che in realtà non è una nuova promo perché c'era anche per quanto riguarda lo scorso maggio il bonus fino a 200 USDT in premi per tutte quelle persone che si iscrivono su Bitket è stato azzerato il conteggio di conseguenza ci sono tantissimi nuovi posti per tutte le persone che purtroppo non ce l'hanno fatta ad iscriversi alla vecchia promo quindi ragazzi non cambia assolutamente niente ormai abbiamo fatto già una capa così grande ovvero ottenete i primi 100 USDT di bonus a fronte di 200 depositando almeno 100 USDT e invece gli altri 100 USDT li riceverete con un volume minimo sul mercato appunto dei futures su Bitket di circa 10.000 USDT tutti i link comunque sia qui sotto in descrizione perfetto ragazzi passiamo a vedere come si sta comportando questa mattina il mercato vediamo come abbiamo un mercato relativamente misto abbiamo il settore delle memcoin che sta performando molto bene infatti abbiamo per esempio Dog che guadagna un 26,7% Brett che è una delle più importanti memcoin basata appunto su Coinbase come abbiamo visto anche prima guadagna un 29,8% Caspa un 14,1% ma in linea generale comunque sia abbiamo comunque sia anche dei numeri di correzione come per esempio BGB che poi in realtà nell'ultima settimana ha fatto delle buone performance quindi sta soltanto ritracciando poi abbiamo Shiba Inu che perde un 5% nell'ultime 24 ore assestando comunque sia un mensile negativo comunque sia passiamo con il vedere come si stanno comportando i big infatti vediamo come Bitcoin nell'ultima 24 ore guadagna un 1,32% assestando proprio prezzo a 69.200 dollari nonostante che ieri abbiamo toccato anche i 70.000 dollari anche se momentaneamente Ethereum perde comunque uno 0,61% assestando proprio prezzo a 3.770 dollari passiamo con il grafico di Bitcoin infatti vediamo come tendenzialmente abbiamo sempre Bitcoin che viaggia all'interno di questo triangolo vediamo come base abbia i 67.000 dollari circa anzi se prendiamo le chiusure in realtà abbiamo i 67.400 dollari e nella giornata di ieri come avete visto abbiamo toccato i 70.200 dollari qualora noi dovessimo superare con una chiusura sopra i 69.400 dollari con questa candela di oggi allora abbiamo la possibilità di andare a confermare la rottura di questa trendline ok? il che potremmo avere più possibilità di andare a toccare i 71.400 dollari che ricordo che questa zona qui è la zona più importante da andare a recuperare qualora volessimo andare a attaccare nuovamente i massimi storici che ricordo sono a 73.800 dollari non che siamo chissà quanto distanti perché infatti se andiamo a vedere dal prezzo di adesso ci manca soltanto un 6,58% potremmo farlo tendenzialmente anche tutto oggi però comunque sia ragazzi questa è un po' tutta la situazione abbiamo una volatilità che praticamente è ai minimi infatti se passiamo appunto sul volatility index vediamo come sì un pochino nella giornata di ieri si è ripreso andando a toccare i 70.000 dollari però comunque sia siamo ben lontani dalle fasi di alta volatilità come per esempio a marzo che abbiamo toccato i 32 attualmente ora che abbiamo recuperato siamo ad un 2 ma fino alla giornata di ieri eravamo a 0,7 ragazzi praticamente volatilità pressoché nulla andiamo a vedere insieme come si stanno comportando o meglio come è finita la giornata di ieri per quanto riguarda i flussi o deflussi dei bitcoin etf su solo americano, sulle borse americane infatti vediamo come la giornata si sia conclusa con più 1550 bitcoin di cui la maggior parte li ha assorbiti il fidel di bitcoin trust abbiamo avuto una quotazione a 0 sia per la share bitcoin trust quello di blackrock sia dal punto di vista delle distribuzioni del grayscale bitcoin trust andiamo a vedere ethereum ethereum anch'esso sta aspettando una volatilità una posizione da prendere dal punto di vista delle price action molti qui ci vedono come un possibile test a spalle staremo a vedere perché effettivamente se dovessimo rompere la neckline che potrebbe essere questa rottura verso il ribasso di test purtroppo non potrebbe essere un bello scenario perché innanzitutto andiamo a rompere un livello molto importante che è quello dei 3.700 dollari ok poi potremmo vedere direttamente affiondare ethereum verso i 3.260 dollari perché questa è una zona transitoria infatti come l'ha utilizzata il 20 per fare in una singola giornata in una singola sessione un 20% potrebbe riassorbissero tutto qualora dovesse confermarsi una situazione del genere cioè vuol dire una situazione di top temporaneo quindi ragazzi voglio andare a vedere scongiurare questa situazione e soprattutto voglio andare a vedere recuperare i massimi almeno i massimi locali che sono i 3.975 dollari le prossime ore ci diranno dove vorrà muoversi il prezzo perfetto ragazzi siamo arrivati alla fine di questo video mi raccomando se non l'avessi ancora fatto ti chiedo di lasciare tutti i link qui sotto in descrizione per andarsi a iscrivere a Bitget se non l'avessi ancora fatto ti chiedo di supportare il canale lasciando semplicemente un like e iscrivendoci al canale stesso per gli iscritti invece noi ci vediamo nel prossimo video ciao ciao ciao